gentili telespettatori buona giornata rassegna stampa di oggi sabato 23 aprile 2022 partiamo con il corriere della sera l'orrore delle fosse comuni a mariupol 9.000 corpi l'unione europea tregua mosca vuole il sud dell'ucraina draghi andrà a kiev e andiamo a vedere la repubblica che titola nella catacomba di mariupol nella ciaieria dove i tecnici e i ceceni combattono la resistenza ucraina per conquistare l'impianto siderurgico queste sono le foto dell'interno di queste persone che sono intrappolate draghi a washington l'italia come modello per la rinuncia al gas russo beh caro draghi prima di fare il modello numero 5 come benigni bisognerebbe prima trovare bene come sostituirlo prima di fare il modello in europa avevamo già giuseppe conte che si vantava che tutti lo imitavano e poi andiamo a vedere macron spera male pen gioca la carta populista passiamo alla stampa l'avanzata russa e il no di mattarella alle ambiguità la nostra pace arrivò con le armi poi andiamo a vedere andiamo a vedere libero quotidiano se questi sono i vincitori l'armata rossa sembra una brigata dell'isis i ceceni festeggiano tra le cenere di mariupol e inneggiando ad allà andiamo poi a vedere il giornale misteriosi sabotaggi chi boicotta putin allarme per il terzo incendio nei siti militari russi intanto mosca prepara anche l'invasione della moldavia a mariupol fosse comuni ma nessuna tregua e draghi poi eppure gli economisti liberisti andiamo a vedere il fatto quotidiano contro ordine sturmstruppen lacrime di coccodrilli macron con scherz mai cobelligeranti l'onu va da putin johnson è nato ora mosca può vincere usa embargo boomerang e poi andiamo a vedere il messaggero putin punta su odessa e poi il sole 24 ore allarme bundesbank il no al gas russo costerà 180 miliardi e poi il resto del carnino mattarella esalta la resistenza ucraina lo schiaffo del presidente ai neutralisti e pacifisti a senso unico dice il 25 aprile la festa di chi difende in armi la libertà sì se voi guardate la seconda guerra mondiale come è finita con i russi e gli alleati che sono arrivati fino al führerbunker di hitler perché con baffetto non è che si poteva fare i pacifisti e mandare dei bacioni si sono dovute usare tante di quelle armi come non mai nella storia quindi la storia la storiella dei pacifisti pace amore non mandiamo le armi perché devono arrendersi eccetera eccetera è veramente inquietante a dir poco e poi andiamo a vedere la guerra cancella il lavoro dove dopo due mesi di conflitto occupazione va k o il boom della cassa e la gelata dei consumi putin alza il tiro vogliamo odessa e tutto il sud missione a mosca per il segretario dell'onu e io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata buon sprawdito su buon buon buon